Musica Cari amici, buongiorno e bentrovati. Prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano ancora il lungo viaggio di nave 18 che resta ferma al porto di Catania con i migranti a bordo. L'imbarcazione della Guardia Costiera è giunta ieri sera nel capologo etneo dal Viminale, però non è ancora arrivato l'ok allo sbarco. Si attende di conoscere dall'Unione Europea la destinazione delle persone soccorse. Il primo dei nostri servizi, Mario Grasso. Una vera e propria fase di stallo dove tutti i contendenti attendono la prima mossa. Dalla mezzanotte scorsa la nave della Capitaneria di Porto di Ciotti si trova ormeggiata al porto di Catania. Nella banchina che solitamente nei mesi scorsi ospitò il trasbordo dei migranti salvati nel Mediterraneo sia dalle organizzazioni non governative che dalle navi militari non solo italiane. Stavolta però la scaletta, anzi la passerella della nave di Ciotti, rimane ben salda entro bordo, non consentendo così alcun collegamento con la terraferma. Ad un metro appena dalla barca c'è quindi la banchina, quella siciliana, che viene ancora negata dal Ministero dell'Interno ai 177 migranti raccattati nel mare dalla nave italiana, costretta a girovagare tra Malta e la Sicilia, sino a quello che sembra essere tuttora solo uno scalo tecnico, un modo per rifornire l'imbarcazione. Nell'attesa di un destino che ancora nessuno conosce, legato a doppio filo alle decisioni che i paesi dell'Unione Europea dovranno prendere sul destino dei 177 migranti, uomini, donne, bambini stipati sulla nave della Guardia Costiera. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non fa marcia indietro, nega infatti il trasbordo in terra italiana dei migranti, minaccia di riportare gli stessi in Libia, ma nello stesso tempo auspica notizie dall'Unione Europea che, almeno sino a questo momento, tardono ad arrivare. E così la nave rimane in assetto di navigazione, praticamente pronta a partire da un momento all'altro, sebbene rimanga dall'altro lato ancora ben ormeggiata, scortata a mare da altre unità navali della Guardia Costiera, compresa quella dei sommazzatori e, dall'altro lato, cioè dal lato della banchina, ben sorvegliata, dalle forze dell'ordine, carabinieri, polizia. Sul posto arrivano anche il questore e il vicequestore di Catania, rispettivamente Alberto Francini e Salvatore Fazzino, più per rendersi conto di persona di cosa stia accadendo, piuttosto che per impartire ordini, in quanto la situazione sembra davvero essere sotto controllo. In mattinato un camion munito di gru trasporta i rifiuti e il vestiario ormai non più utile nelle discariche. La nave, nel contempo, è rifocillata a dovere, sebbene dalla stessa non trapelino notizie esatte circa le condizioni di salute dei migranti, che sembrano però essere confortanti. A bordo dovrebbero trovarsi una ventina di minori, ma anche questa notizia non è di prima mano e la stessa organizzazione Save the Children non ha riscontri ufficiali. Noi non siamo a bordo della nave, siamo molto preoccupati però per le persone che sono a bordo della 18 ormai da sei giorni, che è un periodo lunghissimo per chi, come loro, è fortemente provato. Siamo dinanzi all'ennesima situazione di stallo, dove a pagare sono sempre più vulnerabili, tra cui i minori, una situazione che viola qualsiasi convenzione sui diritti umani. A bordo della nave 18 che è approdata ieri notte a Catania ci sono dei minori, ci sono donne, ci sono persone che sono state per un periodo di tempo lunghissimo nei centri di detenzione in Libia. Parliamo anche di un anno, un anno e mezzo, come hanno riferito i migranti già sbarcati a Lampedusa. Negare a queste persone che hanno subito, come si sa, violenze di ogni tipo, a queste persone, a questi minori, un approdo e un porto sicuro dove ricevere finalmente l'assistenza necessaria per un tempo così lungo è veramente inammissibile. Noi chiediamo al Governo di trovare immediatamente una soluzione che metta in primo piano la protezione delle persone e il rispetto dei loro diritti. Salvini dunque ribadisce la lineatura, mentre il Premier Conte cerca una soluzione a livello europeo anche per mediare quel che sta accadendo all'interno del Governo italiano dove sul destino dei migranti pare non esserci univocità di intenti. L'unico dato certo è che sono stati soccorsi dalla nave mentre erano a bordo di un barcone ormai malconcio in zona Sarmaltese cinque giorni fa. Da allora attendono di conoscere il proprio destino legato alla politica della distribuzione dei migranti tra i vari paesi europei che in tal senso spesso hanno fatto orecchio da mercante. Al momento non si indietreggia, la nave rimane al porto mentre le ore passano e nulla sembra essere certo. E chiedono che i migranti vengano fatti sbarcare a Catania, gli attivisti dell'Associazione Catania Bene Comune e di altre associazioni. La nostra è città aperta all'accoglienza, dicono. È inaccettabile la scelta del Ministero dell'Interno. Catania è città di solidarietà e accoglienza. Vogliamo che il nostro porto sia immediatamente aperto e che le autorità lasciano sbarcare le 171 persone dalla nave di Ciotti. Lo scrivono in un comunicato una quindicina di associazioni che in mattinata si sono ritrovate in una delle banchine del porto per un sit-in contro l'obiettivo politico del governo, dicono, di giustificare l'utilizzo di centinaia di vite umane come arma di ricatto, considerate carne da macello, non vite e speranze ma numeri da distribuire o respingere. È inaccettabile, spiegano le organizzazioni che si rifanno alla rete antirazzista catanese, la scelta del governo italiano e in particolare quella del Ministro dell'Interno Salvini di impedire lo sbarco nel territorio italiano delle 171 persone, stremate e in precari condizioni di salute. Noi siamo qua per chiedere che vengano aperti i porti perché riteniamo assolutamente criminale, ingiusto e disumano che venga attuata questa politica dal governo italiano di chiusura dei porti e di violazione dei diritti umani. Siamo qua per chiedere che queste persone possano sbarcare in questo porto come in tutti gli altri porti perché è sia legittimo, sia legale, sia disumano che venga impedita a queste persone di poter sbarcare. Quindi ci auguriamo che questa situazione di stallo si sblocchi al più presto. Da molti giorni 171 donne, bambini e uomini fuggiti dalla miseria, dalla guerra, dai lager libici dove hanno subito le violenze dei trafficanti di esseri umani si trovano sulla nave della Guardia Costiera Italiana di Ciotti. Sì, staremo ancora qua un po' per far sentire la nostra voce, la nostra voglia di chiedere giustizia e diritti umani per queste persone. Chi questa mattina ha protestato da una delle banchine del porto di Catania ha parlato apertamente di mancanza di rispetto, di violazione dei diritti umani, di una tutela della legge che però contrasta con il diritto fondamentale dell'essere umano. D'altra parte lo slogan è sempre quello, nessuna donna, nessun uomo è illegale, restiamo umani. Insomma un fronte sempre più caldo, in una mattinata solo all'apparenza serena e tranquilla. Adesso una storia, fortunatamente a lieto fine, agitazione, tanta paura e poi il primo vagito della piccola Ludovica è stato il marito di una donna far nascere in casa la loro secondo genita che evidentemente aveva fretta di venire al mondo. La mamma e la bimba stanno bene, le abbiamo incontrate. Il coraggio di mamma Maria, tanto giovane quanto forte, e la calma di sangue freddo di Diego, il suo papà, 31enne, poliziotto in servizio presso la questura di Catania. C'era solo lui ad aiutarla, quando la piccola Ludovica ieri notte ha improvvisamente deciso che raggiunto è il momento di rompere gli indugi e salutare il mondo lì fuori dal grembo. Né i sanitari né i nonni sono riusciti a precederla. Da poliziotto, quindi sempre sul campo, ad ostetrico improvvisato, com'è andata? È stata una cosa all'ultimo minuto perché non me l'aspettavo, perché mia moglie doveva partorire e aspettavamo l'intervento del 118 che purtroppo veniva da lontano nonostante siano stati molto celeri. La bambina è nata, abbiamo visto la situazione all'ultimo minuto che era precaria e quindi vedendo il parto del primo figlio ho fatto le stesse cose che ho visto dai medici e fortunatamente è andato tutto bene. Ma in quei momenti cosa si pensa? In quei momenti c'è molto panico, però il panico viene sopraffatto dalla forza di fare qualcosa, quindi si va avanti. 40 settimane più 5, fiocco rosa pronto, la nascita era ormai questione di poche ore o giorni, qualche malessere, nausea, ma nulla di più. La gente delle volanti di Catania aveva preferito però non andare a fare il turno di notte, rimanere con la moglie per essere pronto all'attesa trasferta in ospedale ed invece il suo ruolo è stato un altro. La cosa più difficile qual è stata? La cosa più difficile, diciamo tutto è stato difficile, però in quel momento sono stati attimi, quindi tutto è passato. Non c'era qualcuno che dava istruzioni al telefono, neanche quello? Inizialmente no, perché io ripeto, ho fatto queste cose che ho visto per il primo parto di mio figlio, successivamente ho ricontattato il 118 e mi hanno aiutato per stringere il cordone ombilicale in attesa del 118. Maria, 28 anni, tiene tra le braccia la sua secondogenita e ricorda con lucidità la speciale complicità con Diego. Dire a mio marito che amo il 118 perché non arrivo ad andare in ospedale e così è stato. Se lo sentiva? Sì, 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 perché senti che sono le contrazioni giuste, ci sono arrivate, ci sono arrivate e quindi... A un certo punto questa testolina, lei l'avvertiva, stava proprio per venire fuori. Ho detto a mio marito, c'è la testa, c'è la testa, sento la testa, è il tempo di abbassarmi, ho detto guarda abbassiamoci perché sta nascendo, aiutami. Mio marito è stato bravissimo, bravissimo, non so come avrei fatto, è uscito dalla testa, è stato tutto molto naturale appunto. La bambina ha fatto da sé e poi con la spinta successiva è venuta al mondo. Cosa abbiamo detto poi i medici e il suo ginecologo? Erano tutti entusiasti, soprattutto quelli del 118 perché era una cosa nuova anche per loro. Sono stati bravissimi, ci hanno soccorso in maniera eccellente, poi stavamo bene, mamma e figlia. Dal canto suo, Ludovica, 3,170 kg di gioia e 51 cm di incredulità per l'intero reparto dell'ospedale 10 Reale Scopia di Salute. Un dono unico per il fratellino Lorenzo di tre anni che fortunatamente dormiva nel lettone piano di sopra e non ha vissuto i momenti concitati in cucina. Mamma e papà non hanno smesso un secondo di pensare a lui e alla sua serenità, speravano non si svegliasse. Una storia davvero particolare approdata a quei reparti? Sicuramente sì, però purtroppo in questi tempi succedono, anche se sono rare queste evenienze, queste partecce a domicilio succedono. Dei parti a domicilio con l'esperta ovviamente, gli esperti siete voi ma in questo caso non c'era nessuno, quindi questo papà comunque è stato bravo. Bravissimo, quindi dal poliziotto ha fatto l'osteidrico. E se la piccola Ludovica ha avuto fretta a nascere adesso vorrà certamente tornare a casa al più presto. È un più naturale di così. Velocissimo, naturalissimo, qualche punto per la mamma però tutto bene. Si può fare un terzo. No, abbiamo finito qua, maschietto per minuti se vuoi dire mai. Chi lo sa, però spero che basta. Auguri a tutti, noi cambiamo ancora argomento. Rapinatore arrestato da poliziotto camuffato da farmacista. I frequenti assalti avvenuti nel rione catanese di San Giovanni Galermo ai danni di una farmacia e di altri negozi hanno portato la polizia di Catania ad avviare un mirato servizio di controllo e prevenzione che ha permesso di sventare l'ennesima rapina ed arrestare il rapinatore. Le manette sono così scattate per Mario Carmelo Rapisarda, 45 anni. L'uomo che stava per entrare in azione nella farmacia del quartiere, già oggetto di un altro colpo nei giorni precedenti, seguiva sempre il medesimo modus operandi, totalmente travisato ed armato di pistola. Così, dopo alcune ore di osservazione, gli agenti hanno notato giungere uno scooter Honda SH300 di colore scuro con la targa coperta con un uomo a bordo, le cui fattezze fisiche risultavano corrispondenti a quelle del rapinatore che nelle settimane scorse aveva agito nello stesso quartiere, travisato da passamontagna ed armato di pistola. Il malvivente è entrato in azione nella farmacia con l'arma in pugno. Dopo essersi diretto alla cassa, ha intimato ad uno dei dipendenti di consegnargli l'incassa. A quel punto, gli agenti, uno dei quali indossava un camice bianco per camuffarsi, sono intervenuti e lo hanno bloccato. Non con poche difficoltà, vista la stazza e la strenue resistenza del rapinatore. E stessa sorte, toccata ad un ventenne arrestato nel quartiere Enesima di Catania, era diventato l'incubo nei negozianti. Si tratta del pregiudicato Denni Alfio Mascari, 20 anni, che nella giornata di ieri è stato fermato da agenti del commissariato Enesima in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che sostituisce la misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Infatti, nonostante questa misura, il giovane avrebbe continuato a mettere a segno colpi ripetutamente negli esercizi commerciali del quartiere. Ieri, come detto, il fermo. Parliamo adesso del meteo, questo tempo pazzo d'agosto, tempo ancora instabile per qualche giorno in Sicilia. Ieri sotto una bomba d'acqua che ha allagato strade, abitazioni e negozi. Un netto miglioramento è previsto per il weekend. L'estate non è dunque finita. Pioggia, sole, nuvole, umidità e ancora nuvole, umidità, sole e pioggia. Il tempo dei prossimi giorni sarà caratterizzato da fenomeni in repentino cambiamento con precipitazioni anche di breve durata ma di forte intensità come accaduto ieri in mattinata sui paesi del versante orientale dell'Etna colpiti da una vera e propria bomba d'acqua che ha allagato strade, autostrade, negozi, abitazioni private e bloccato automobilisti in vere e proprie basche formatesi dove l'acqua piovana non è riuscita a defluire in tempo. La tendenza sarà la stessa almeno fino a giovedì quando pian piano questo vortice depressionario in quota lascerà spazio ad un clima decisamente più stabile come confermano dalla Sias, il servizio informativo agrometeorologico siciliano. Queste sono le mappe che misurano la pressione in quota da qui si evince chiaramente che la stessa si innalzerà nel prossimo weekend quando l'estate tornerà a farsi sentire. Abbiamo in quota la presenza di un vortice ciclonico di un nucleo di bassa pressione, di aria fredda che innesca specialmente nel pomeriggio dei forti fenomeni convettivi che danno luogo a dei temporali temporali provvisi, localizzati, anche intensi purtroppo porta spesso magari anche un po' di grandine e che ci ha accompagnati in questi giorni appena passati e che ancora continua a interessare la nostra isola ancora per qualche altro giorno. Diciamo che la situazione si evolverà in maniera molto graduale perché questo vortice ciclonico in quota ancora stenta a scomparire e la situazione sarà in maniera quasi definitiva stabilizzata verso il fine settimana. Verso venerdì già potremmo apprezzare la presenza più preponderante del sole rispetto ai fenomeni di stabilità e di nuvolosità diffusa. Fenomeni di stabilità che pare siano determinati da un vero e proprio scontro tra l'anticiclone delle Azzorre e quello africano quest'ultimo pare che abbia sempre più la meglio sulla Sicilia. Beh sì, diciamo che il clima in Sicilia nel Mediterraneo centrale viene dominato da questi due anticicloni uno, quello africano che è sempre un'area di alta pressione e dunque di stabilità ma che comporta un flusso abbastanza forte di correnti da sud dunque molto calde dunque quando ci sono i picchi di grande caldo di AFA molte volte è responsabile l'anticiclone africano mentre l'anticiclone delle Azzorre ha anch'esso un anticiclone dunque un anticiclone che porta stabilità a giornate soleggiate però instaura dei flussi più umidi da occidente e significano temperature un po' più sopportabili. Diciamo che in questo momento non sono forti né uno né l'altro ma abbiamo invece quest'area depressionale in quota che determina tutti questi temporali specialmente nel pomeriggio. Oggi come anche domani e dopodomani questa instabilità permarrà mentre venerdì, sabato e domenica dovremmo aspettarci certamente giornate migliori con però qualche probabilità di piogge seppur di lieve entità nel pomeriggio. Sì, diciamo che la situazione si evolverà molto gradualmente dunque avremo ancora una giornata di oggi una giornata di domani, mercoledì specialmente nel pomeriggio ancora questi temporali diffusi con piogge localmente anche di una certa intensità giovedì sarà sempre questa situazione a sprazzi vedremo anche il sole chiaramente specialmente alla mattina ma nel pomeriggio è sempre a forte rischio diciamo di queste formazioni di queste temporali la situazione si evolverà in maniera più definitiva appunto già da venerdì ma meglio ancora sabato e domenica. Possiamo dunque rassicurare sarà ancora estate per qualche settimana? Ma è troppo presto per poterla farla finire dal punto di vista meteorologico già ad agosto. Ed è negativo il bilancio per gli stabilimenti balneari catanesi che quest'anno hanno dovuto fare i conti appunto con una stagione piovosa si confida adesso nelle ultime settimane mentre il Sib, sindacato italiano balneari pensa già alla prossima scadenza delle concessioni demagnali prevista per il 2020. Lettini vuoti, ombrelloni chiusi, spiagge quasi deserte un'estate a singhiozzo quella per gli stabilimenti balneari della Playa di Catania che quest'anno hanno dovuto fare i conti con una stagione piovosa caratterizzata da un clima dai cambiamenti improvvisi che fino ad ora hanno scoraggiato buona parte dei bagnanti. Si confida nelle ultime tre settimane la chiusura dei lidi è prevista per il 9 settembre potrebbe per questo essere prolungata nel 2019 al 16 di settembre come spiega Ignazio Ragusa presidente regionale del sindacato italiano balneari di Fipe Confcommercio. Passato il ferragosto si cominciano a tracciare dei bilanci come è andata, come sta andando sulla Playa di Catania. Purtroppo quest'anno la stagione balneare è stata caratterizzata dal tempo non buono. Adesso rimangono ancora pochi giorni prima della conclusione della stagione abbonamenti quindi nella prima decada di settembre finirà la stagione abbonamenti e l'utenza sono certo che godrà di questa rimanenza di giorni per godere del mare e della spiaggia. Il sindacato italiano balneari nei prossimi giorni esattamente il 26 di agosto ha in programma un evento a cui aderisce anche Catania. Sì, è una giornata dedicata diciamo all'informazione. Nella grande confusione che si fa per capire cosa succederà nel 2020 ci siamo organizzati in una giornata dedicata al balneare per poter dare corrette informazioni e poter rendere ancora più libere le persone di valutare quali sono in questo momento le opzioni date dai nostri amministratori. A chi sostiene che la Playa sia completamente sotto il dominio dei privati si spiega che in realtà non è così. Solo il 40% è in gestione ai privati tutto il resto è fruibile. Sì, in effetti proprio Catania sulla Playa in passato è stata lungimirante quindi sia le tre spiagge libere con il totale di sette varchi a male rende fruibile la spiaggia. Consideriamo che i privati gestiscono solamente il 40% dei 4 km e su più di 80 km circa 86 km di costa solamente una decina sono quelli impegnati da strutture balneari a Catania e ancora meno intorno a 4 km quelli impegnati da privati. A fronte di tutti quelli che sono i provvedimenti positivi che i privati si sono caricati sulle spalle per migliorare questi tratti di litorale ci sono invece purtroppo negli anni provvedimenti mancati da parte delle amministrazioni che si sono succedute. In effetti quello che si è creato sulle spiagge quello che ha creato la categoria dei balneari quell'indotto quell'economia oggi viene un po' messo a rischio viene decisamente messo a rischio da questa incertezza da questa poca attenzione a trovare soluzioni per queste vicende. Ecco, nel 2020 ancora manca una legge quadro per poter definire cosa succederà a quelle aziende a quelle imprese che negli anni hanno realizzato strutture servizi hanno acquisito esperienze e potrebbero trovarsi da un giorno all'altro le attività a rischio. Torniamo alla cronaca i carabinieri di Giarre hanno arrestato Giuseppe Sorbello 57enne di Santa Venerina e Giovanni Aldo Chiriele Jason di Zafferano e Tnea per furto aggravato in concorso in rimattina una gazzella ha sorpreso e bloccati i due all'interno di un capannone di una ditta mentre erano intenti ad asportare delle tubature di rame i due avevano danneggiato l'accesso d'ingresso al capannone con una cesoia che è stata rinvenuta sul posto ben 400 kg di tubi per un valore complessivo di 1600 euro sono stati riconsegnati al responsabile della ditta. Cronaca sindacale no alla riduzione del personale Enel manifestazione stamani davanti alla sede di Catania organizzata dalla UGL contro la riorganizzazione dell'ente che potrebbe avere ricadute negative sul piano occupazionale. Mario Grasso Una scelta insensata priva di logica così l'UGL etichetta la ristrutturazione voluta da Enel dell'area mercato ma anche del servizio di distribuzione sul territorio Decisioni non condivise e non condivisibili dicono dal sindacato che potrebbero portare ad un taglionetto del personale di circa 5000 unità in tutta Italia Catania compresa La Sicilia perderà tra l'altro la sede direzionale che sarà accorpata con un'altra direzione mentre l'area mercato che gestisce la clientela sarà venduta a terzi con il conseguente esubero di personale Il paventato taglio del 30% nelle strutture verrà coinvolta come dicevamo circa 5000 unità in tutta Italia Catania compresa la cui sede sarà accorpata quella di Edna una mannaia che l'UGL non accetta chiedendo l'intervento immediato del ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio Oggi a Catania si è tenuto un sit-in di sensibilizzazione a cui ha preso parte tra gli altri Michele Polizzi segretario nazionale con delega dall'energia dell'energia della federazione UGL chimici Significa un decadimento del servizio elettrico che già devo dire non è tra i migliori siamo al penultimo posto in Sicilia dal punto di vista del tasso di guasti per dare un'idea la media nazionale è intorno al 27-28% di minuti nel mese di agosto e noi altri siamo oltre la media regionale oltre quasi 41 minuti per utente quindi diciamo che è una situazione già peraltro grave a cui questi ulteriori tagli delle strutture del 30% la renderanno ancora più drammatica noi abbiamo già chiesto e lo chiediamo già da un paio d'anni per quanto riguarda tutte le reti italiane ma per quanto riguarda il meridione in particolare un piano massale che prevede il rifacimento e l'ammodernamento di tutte le reti elettriche così da poter far risalire il tasso di guasti a un livello accettabile in sede locale Carbeno Giuffrida segretario provinciale di UGL chimici tenta con degli esempi di far capire cosa potrebbe accadere siamo a Catania e abbiamo prova di quello che è successo un paio di giorni fa due episodi particolari uno che riguarda il depuratore di Catania che è stato oggetto di una mancanza per un paio d'ore di energia elettrica e quindi abbiamo rischiato che si scaricasse a mare tutti i reflui della città di Catania immaginate voi reflui di 100.000 utenze il danno non solo di immagine ma anche dal punto di vista della salute dei nostri bagnanti dei nostri concittadini cosa sarebbe andata incontro se l'azienda che lo gestisce la Sidra in tempi ce l'è non essere provveduto ad operarsi con un gruppo elettrogene importante l'altro consegno del poi il 17 di agosto il giorno di Sant'Agata la nostra metropolitana è stata oggetto di disagio di energie elettriche non so se è dovuta a loro o a problemi interni e quindi tutto questo ci deve far riflettere noi andiamo sempre più incontro ad una bolletta più alta per i nostri cittadini a un servizio sempre minore al sitin ha preso parte anche Giovanni Musumeci segretario generale della UGL di Catania che ha manifestato piena totale condivisione del sindacato catanese alla manifestazione odierna portiamo ancora una volta a pagina premi inspiegati a dirigenti dell'ASP di Catania per 39.000 euro il Codacons chiede chiarimenti sul delibere valate sotto ferragosto oltre 33.000 euro per il direttore amministrativo e 5.676 euro per il direttore sanitario dell'ASP di Catania ammontano a quasi 40.000 euro le somme integrative dei compensi percepiti dai due dirigenti catanesi per il 2017 lo dice una delibera di questi giorni adesso in mano a Carmelo Sardella legale del Codacons l'associazione vuole vederci chiaro a nome degli utenti e perciò presenterà un esposto alla procura di Catania alla Corte dei Conti e all'ANAC l'autorità anticorruzione si chiede in più nel contempo il ritiro del provvedimento che liquida i premi per i risultati raggiunti dall'azienda di parecchio riteniamo sia un ulteriore schiaffo ai pazienti ai medici agli infermieri al personale sanitario tutto di fronte a un periodo di grave crisi della sanità in generale ma soprattutto anche la sanità catanese un provvedimento di premio di tale entità che in realtà non riguarda soltanto Catania vediamo che anche altre aspe abbiamo proprio nei giorni scorsi denunciato premi diciamo di entità quasi analoga all'aspe di Caltanissetta quindi è un problema che non riguarda solo Catani ma concentrando l'attenzione su quella che è la disastrosa direi situazione della sanità catanese non possiamo che stupirci e porci delle domande che quindi rivolgiamo agli organi competenti affinché siano esaustive qualcosa dovrebbe dirla forse anche l'assessore regionale sì è stato coinvolto abbiamo chiamato in causa l'intervento anche dell'assessore regionale in razza ma anche del ministro della salute Grillo ci chiediamo quali siano questi obiettivi raggiunti quali miglioramenti per la sanità catanese siano stati raggiunti nel 2017 sono stati ridotti i tempi di attesa per i pazienti si sono fatti interventi per assicurare maggiore sicurezza ai medici gli infermieri al personale sanitario negli ospedali per le strutture ospedaliere e guardate cosa denuncia il Codacons piove dentro al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Cireale a segnalarlo al coordinamento per la difesa dei consumatori sono stati alcuni utenti che hanno inviato queste foto che attestano quanto accaduto a causa della pioggia di ieri no comment ecco le condizioni in cui devono lavorare medici ed infermieri e da cui devono sottostare i malcapitati i pazienti chiosa il Codacons che chiede in una nota che il direttore generale dell'ASP il ministro e l'assessore regionale alla salute si pronunciano a riguardo manutenzione stradale si restituisca alla città metropolitana di Catania risorse e funzioni a chiederlo l'UGL nel Catanese sono 2500 pensate i chilometri di strade di competenza della ex provincia resta alta l'attenzione sulla manutenzione stradale dopo i fatti di Genova il presidente Musumeci si adoperi affinché la città metropolitana di Catania possa tornare a fare manutenzione su strade viadotti e strutture di propria pertinenza e l'appello che Maurizio Attanasio segretario generale della CISL di Catania indirizza alla regione dopo la convocazione da parte del governatore della riunione operativa di venerdì prossimo con i vertici di ANAS CAS protezione civile e di dirigenti dell'assessorato regionale alle infrastrutture oggetto dell'incontro lo stato di salute dei ponti delle autostrade e della viabilità secondaria in Sicilia con la riforma crocettiana ed il prelievo forzoso operato dal governo nazionale ricorda ancora Attanasio le province regionali sono state svuotate di risorse da investire sul territorio e private degli strumenti per rispondere adeguatamente alle funzioni e ai servizi prestati alla collettività tra tutte la manutenzione di strade edifici scolastici e strutture di proprietà degli enti la sorveglianza ambientale e moltissime altre iniziative basti pensare che solo lo scorso anno il 2017 alla città metropolitana sono stati prelevati 63 milioni di euro per l'area metropolitana catanese esistono risorse di 35 milioni di euro provenienti dal patto per il sud la Cisle di Catania ricorda il segretario generale ha da tempo denunciato che su 20 progetti rifinanziati solo 6 sono esecutivi da qui il secondo appello rivolto all'assessore Falcone e al sindaco della città metropolitana salvopogliese a costituire una task force di tecnici dell'ex provincia per aiutare i comuni destinatari di risorse che non riescono a rendere esecutivi i progetti per mancanza di personale o di adeguate conoscenze non ci sono altre notizie termina qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sul nostro canale youtube e sulla nostra pagina facebook vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete un nuovo appuntamento in diretta con la nostra informazione questa sera alle 19.45 grazie per averci seguito e a voi tutti buon proseguimento e buon pomeriggio le previsioni meteo per la giornata di domani mercoledì 22 agosto il cielo sarà coperto con probabili precipitazioni a carattere temporalesco su tutta la Sicilia i venti moderati i mari mossi vediamo adesso le temperature oggetto di un calo a causa della vortice depressionario in quota a Catania minima e massima rispettivamente di 22 e 28 gradi la città più calda a Grigento a 불 metres a cura a cura a salbei a cura a città più calda a cura a cura a cura a cura glissà a cura a cura Pag. Grazie a tutti.